Si tratta degli incontri che noi facciamo in giro per diverse scuole in Italia, ma in questo caso qui a Pescara, con l'intenzione di far incontrare il mondo del lavoro con la scuola. Insieme a noi, quindi oltre a me, che appunto sono quello che ha fatto questo libro, c'è l'IDP, quindi l'Associazione Italiana Direttori del Personale, con diverse testimonianze quindi di figure che lavorano nell'ambito della selezione all'interno delle aziende e che quindi interagendo con i ragazzi, anche grazie alle loro domande, quindi una presentazione molto interattiva, si riesce a dare risposte a dubbi, a dare indicazioni su come presentarsi meglio alle aziende e più in generale si cerca di dare un contributo mettendo in contatto due mondi che in passato si sono parlati di meno e adesso sia con l'alternanza scuola-lavoro sia con queste iniziative, anche con iniziative come queste, si stanno via via incontrando e conoscendo meglio. Di quali lavori, di quali professionalità c'è oggi più bisogno? Ma insomma ci sono bisogno di diverse professionalità a seconda un po' dei settori, è chiaro che c'è una, se ne sta parlando proprio in questo momento, nell'aula una rivoluzione digitale in corso e quindi anche tutta una serie di attività legate alla digitalizzazione, al progetto di Industria 4.0. Il giovane rappresenta quella linfa vitale per il futuro che è il futuro di tutti, non è soltanto il futuro del ventenne che va alla ricerca di una occupazione o che vuole inventarsi un'occupazione, è fondamentale per costruire il futuro di un paese, di un network fatto di conoscenze, competenze e di tutto ciò che dà la possibilità al nostro paese, guardando alla nostra cara Italia, di poter entrare in un contesto che oramai è sempre di più competitivo, globalizzato, sempre più si confronta con delle realtà che cambiano in maniera repentina.